Quando parliamo di immersione in apnea non possiamo non parlare di compensazione che è un po' la croce di chi si approccia a questa disciplina. E addirittura c'è chi rinuncia al sogno di immergersi in apnea perché pensa di avere problemi di natura fisiologica alle orecchie. In realtà il 99,9% delle volte il problema è semplicemente di natura tecnica. Cercano la compensazione con una manovra sbagliata, spesso con uno sforzo ispiratore che non può funzionare. Per cui il problema essendo di natura tecnica è sempre risolvibile. E sono qui proprio per invitarvi al prossimo corso di compensazione che comincerà il 16 gennaio. Avete due settimane per pensarci ma non fatelo troppo. Il 9 gennaio ci sarà un incontro online gratuito in cui vi mostrerò il percorso che faremo. Il percorso è online, saranno quattro incontri e in questi quattro incontri potrete superare ogni problema e garantirvi la possibilità di godere di questa disciplina meravigliosa. In realtà i corsi sono due, uno base dedicato a Eval Salva, ovvero a chi ha problemi nei primi 10 metri, e il secondo, l'avanzato, dedicato a chi vuole imparare a compensare a profondità maggiori, avendo la possibilità in questo modo di incrementare in tutta sicurezza le proprie quattro operative. Sì, perché compensare bene significa anche sicurezza, soprattutto sicurezza. Ma di questo ne parleremo più approfonditamente il 9 gennaio, durante l'incontro di presentazione, che vi ricordo è gratuito, però dovete prenotare. Vi aspetto, ciao!